I familiari di Angelo Truisi, 22 anni, il ragazzo delicato ha scomparso il primo gennaio di quest'anno e ritrovato cadavere 19 giorni dopo, chiedono giustizia. Sappiamo che polizia e magistratura stanno lavorando senza sosta, chiediamo solo giustizia, vorremmo che fossero individuati i suoi assassini. Non riusciremo a trovare pace fino a quando non sapremo chi ha ucciso Angelo. Continuano incessanti le attività di indagine e di ricerca della verità da parte delle forze dell'ordine per un delitto che ha suscitato tanto sgomento nell'opinione pubblica delicata. Truisi trascorse la notte di Capodanno con gli amici e non fece più ritorno a casa. I familiari diedero l'allarme e iniziarono subito le ricerche. Dopo una ventina di giorni una coppia di ragazzi notò un cadavere in una terrazza di una villetta abbandonata incontrata a Nicolizia. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione. Nei giorni successivi si accertò tramite il DNA che lo stesso appartenesse ad Angelo Truisi e che il 22enne fu ucciso con quattro colpi di pistola.